Anno nuovo, ma il Comune di Agropoli è sempre avvolto dalle polemiche. Polemiche questa volta alimentate dalla presenza dell'ex sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, in Palazzo di Città per la festa di pensionamento di due dipendenti storici del Comune Agropolese. Alla festa, che si è tenuta nella mattinata del 30 dicembre, Alfieri era presente insieme all'attuale sindaco Adamo Coppola. Le opinioni sulla vicenda sono diverse, per alcuni la presenza del sindaco di Capaccio Pestum non è stata una sorpresa vista la sua decennale carica di primo cittadino agropolese, mentre per altri questa vicenda rappresenta solo la conferma che Franco Alfieri sia realmente colui che dispone del potere decisionale sulle azioni del Comune di Agropoli, classificando Adamo Coppola quasi come una controfigura. Ad essere di questo parere sono i consiglieri di minoranza consolato Natalino Caccamo e Gisella Botticchio, il primo in particolare che definisce Alfieri come padrone di Agropoli, mentre Agostino Abate ha diverse motivazioni per manifestare il suo dissenso sull'accaduto, il quale trova corretta la presenza di Alfieri e la definisce come un atto di cortesia, ma polemizza sulla voluta mancanza di invitare i consiglieri alla cerimonia, definendola come uno dei numerosi atti di arroganza e cafonaggine che circondano l'attuale potere politico-amministrativo comunale di Agropoli. Le opinioni sono varie, ma una cosa è certa, l'amministrazione Coppola si trova sempre di più in una bufera di polemiche.